Musica Benedì 17 maggio 2024, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregioni in apertura della nostra rassegna stampa. Abbiamo un servizio Campobasso, prossime elezioni comunali, Forza Italia presenta la lista a favore di Aldo De Beneditis. L'Otito è l'uomo giusto per la città, Gasparri, puntiamo al 10%. Il servizio è di Pierluigi Borracini. 17 donne, 15 uomini, Forza Italia presenta la lista per le comunali di Campobasso a sostegno del candidato sindaco Aldo De Beneditis. Nella sede di Corso Vittorio Emanuele ci sono i big del partito ed il governatore Francesco Loberti. Abbiamo un candidato di grande caratura morale e professionale, le parole del coordinatore regionale Claudio Lotito. È il momento buono, abbiamo un candidato che è un candidato voterato, nei modi, che ha esperienza e che può rappresentare la sintesi effettiva della coalizione, quindi dare risposte concrete a tutti i problemi della città di Campobasso. L'obiettivo è la doppia cifra, l'auspicio del capogruppo in Senato Maurizio Gasparri. Ma noi questo è quello che ci siamo dati come obiettivo. Antonio Deiani dice il passo dell'Alpino, il 10% alle elezioni europee, il 20% alle elezioni politiche che sono molto lontane nel 2027. Fedelissimo della prima ora di Silvio Berlusconi, Gasparri spiega la posizione del partito sull'emendamento al super bonus con efficacia retroattiva. Siamo contrari ad ogni forma di retroattività e la contrarietà alla sugar tax che colpirebbe tutte le famiglie italiane. Sul no alla tassa noi abbiamo ribadito che Forza Italia è contro ogni tassa. Questa tassa avrebbe colpito le famiglie e aumentando non so del 5% questi prodotti se ne sarebbero acquistati di meno e sarebbe entrata meno IVA. È una tassa stupida, lo capiranno anche da un consiglio, un approfondimento all'ufficio legislativo di qualche ministero. E sulla retroattività noi restiamo convinti in termini di diritto. Poi siccome non è che si può vincere in tutte le cose, una cosa dalla tassa l'abbiamo risolta, sull'altra continuiamo a lavorare. È ancora un servizio nella cornice meravigliosa di Palazzo Petruccia Napoli, conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra di De Laurentiis a Castel di Sangro. Erano presenti il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Il servizio è di Pasquale Damiani. Ritorna il grande calcio a Di Maro in Trentino e a Castel di Sangro in Abruzzo. I due centri anche quest'anno ospiteranno il ritiro precampionato del Napoli. Nella cornice meravigliosa di Palazzo Petruccia Napoli c'è stata la presentazione dei ritiri estivi di Di Maro e Castel di Sangro. Sono arrivati a Napoli il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il presidente della provincia autonoma del Trentino Maurizio Fugatti e i due sindaci Andrea Lazzaroni e Angelo Caruso. Marsilio e Caruso sono stati accolti dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il Napoli sarà a Di Maro dall'11 al 21 luglio. Per quanto riguarda invece il futuro in Abruzzo, la squadra arriverà a Castel di Sangro dal 25 luglio e il ritiro finirà l'8 agosto. Ma tutto dipende dal piazzamento del Napoli a fine campionato perché dal nono posto scattano i preliminari della Coppa Italia. La delusione riflette anche nell'umore dei tifosi che non vedono l'ora di lasciarsi alle spalle questo campionato. Giornalisti e tifosi erano in attesa di avere notizie sul fronte allenatore e sui nuovi acquisti del Napoli. Ma De Laurentiis ha deluso le attese rimandando tutto a fine mese come possiamo seguire dal suo intervento. Devo dire che voi vi aspettate un sacco di novità, soltanto che io di queste novità nel dettaglio non vi posso dire nulla perché il nostro è un lavoro in fieri. Quindi oggi noi parleremo del Trentino e del Abruzzo e poi entro il 31 di maggio faremo una bella conferenza stampa. Lo scorso anno a Castel di Sangro sono state registrate circa 140.000 presenze nelle due settimane di ritiro. Un Napoli che ha svolto quattro amichevoli e allenamenti a cadenza quotidiana nello stadio Patini. Quest'anno invece si disputeranno tre amichevoli contro formazioni della massima serie spagnola, francese e tedesca. E per la nostra rassegna stampa, come sempre partendo dal regionale molisiano, primo piano molise nell'apertura. Biondelli torna nel suo molise, sarà primario al Santimotio di Termoli, direttore dell'ostitricia dell'ospedale di Vasto. Avendo in concorso per il vertice del reparto di Termoli cambia la prospettiva per il punto nascita, finora rischio di chiusura alla scommessa e a zerare la mobilità passiva. Numerosi attualmente parti in Abruzzo di donne residenti sulla costa molisiana. Poi la pagina dedicata alla politica, la campagna elettorale entra nel vivo. Candidati in parata, gaspare il sostegno di Forza Italia, Gribaudo, tira la volata del Partito Democratico. Provincia di Sernia, sequestro cosmetici con molecola nociva per la salute e la finanza. Toglie dal mercato 18.000 confezioni. Urologia, passano le prove, ma quattro medici rinunciano all'assunzione. Regione, nominati i primi tre capi area, Scarlaterri, Tocci e Delisio. Montelongo, villaggio posto sisma, sindaco solo in aula con la minoranza. Pancas scoperta sul cancro termolese nel team europeo di ricerca. Nel fondo pagina Termoli, licenza per il gazebo negata. esercente da in escandescenza, aggredisce dipendente su app. Nel taglio laterale c'è il punto, a firma di Gabriele Salemme, Parlamento europeo, l'importanza del voto. Poi nel taglio alto lo sport, l'UPI, la società a lavoro per l'iscrizione, curva nord, no a strumentalizzazioni elettorali. Campionati universitari, alle 18.00 al Palau Unimo, la cerimonia di apertura. Aveva ancora basket serie C, grande Air Termoli, vince gara 2 e vuole in finale play-off. Dalle listate molisane diamo uno sguardo adesso a quelli abruzzesi, partendo con la prima pagina del centro. Nell'apertura abbiamo la politica, corsa a sindaco, le spese delle liste, Pescara a voto. La Lega e l'Udc dichiarano 0 euro, Costantini invece 50.000. Poi il taglio alto, Abruzzo, i test dopo le bandiere blu, mare, i nuovi prelevi, la qualità dell'acqua migliore sempre di più, superbonus, il Senato cambia ancora le regole, la misura va in archivio. Poi lo sport nel centro pagina con il Giro d'Italia, l'Abruzzo salute il Giro, appuntamento adesso al 2025. Per la cronaca, nel taglio laterale, la vittima aveva 52 anni, due condanne per l'operaio caduto dal tetto a Notaresco, ancora Pescara, raccolta rifiuti. A Porta Nuova entra in funzione l'isola ecologica. Poi nel centro pagina, medico more, donatore, donate le corne, cepa gatti, l'ultimo atto d'amore di Nino Pierantozzi, 70 anni, dopo una vita dedicata ai pazienti. Collega, 22 comuni, turismo, da Ortona a Fossa nasce il cammino di Margherita. Poi nel fondo pagina c'è la cronaca Pescara, furto nel circolo di Porta Nuova, ladri rompono nella sede PD, spaccano la porta a calce di soldi, ma portano via solo vino. Pescara, il processo ricattiosi al parroco, Valentinetti teste in aula, poi ancora lo sport, Pescara, Sebastiani, se non vendo si riparte. Con i giovani. Dal centro uno sguardo alla prima pagina del messaggero d'Abruzzo, nel taglio alto, analisi ok, il mare pulito, l'arta del via libera, la balneazione lungo quasi tutta la costa, off limits pochi punti, la regione a spera di poter evocare i diviti provvisori a Pineto e San Vito Chietino. Chieti, la polemica, comune, taglio dei gettoni ai consiglieri, scomparso, tesoretto per il sociale, poi ancora a Teramo, blogger molestata, l'infermere nega, ho dei testimoni. Le altre notizie, minacce all'oncologo di Messina, denaro indagato un 19 anni, il boss era in coma, curalo bene o peggio per te nel mirino primario, mutti, metodo mafioso lanciano. Emergenza cocaina, consumatori anche a 11 anni. Nel centro pagina, Pescara, Valentinetti in tribunale, ricatto Ardal, preti, il vescovo, c'è il segreto della confessione. Poi nel fondo pagina, sicurezza degli enti, esperti a confronto, la regione ancora esposta agli hacker. Arei montane, assegno di 2.500 euro per ogni bebè, l'incentivi, la misura fino a tre anni del bimbo, possibili anche altre risorse. Poi nel taglio alto, ortona, totti in campo nel torneo di padel per la beneficenza. Serie C, Pescara, piace mister Troise, l'attacco sarà rivoluzionato. Poi il caso di Roma, Borraccia in testa a gioco, Vici Falco ammette. E si scusa, dalle testate regionali, molisane ed abruzzesi, diamo adesso uno sguardo alle prime pagine nazionali, come sempre partendo con la prima del Corriere della Sera. Nel centro pagina, condannate, condannare ogni violenza, la crisi, il presidente alla sapienza, forse speciali di Israele contro Raffare, Taniao e Crociali. Mattarella parla agli studenti di Gaza, c'è stato il fuoco, sì, al dialogo tra gli Atenei. Nel taglio alto, attentato al premier Fico, Timorini Europa e il polacco Trasch, io minacciato di morte. Poi Superbonus, passa la fiducia, elezioni, salta il duello sulla Rai, Vespa perde la democrazia. Dal Corriere della Sera, uno sguardo alla prima pagina della Repubblica, nel taglio centrale, la tangentopoli Ligure, Genova e i verbali di Spinelli. Poi ancora gli appalti, PNRR senza controlli, così si è aperta la strada a corruzione e frodi. Nel taglio alto, l'attentato al premier slovacco, Mosca, Fico vittima della russofobia. Nel taglio laterale, i mappabondi, Ucraina, la Nato valuta l'invio di istruttori militari. Dalla Repubblica, uno sguardo alla prima pagina del messaggero. I diritti valgono per tutti, il titolo nel taglio alto. Mattarella sfida la protesta degli studenti e la sapiezza. L'Italia contrasta sempre le violenze dalla Palestina all'Iran e avverte il peggior potere. Vuole gli Atenei isolati. Poi ancora aggressione a Fico, la leader in allarme, prosetto di interferenze estere, paura sul voto Unione Europea. TASC, io, minacciato. Poi ancora nel taglio medio, Rai, salta il duello. Meloni Schlein, veto degli esclusi. Iradem, negato il confronto tra due donne. La Sette e Sky, venite da noi, il premier si chiama fuori. Dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina del tempo. Oscurati, il titolo nel centro pagina. Così Conte mette il bava agli Aeschlein. Ecco chi non vuole il confronto TV con Meloni. Salta il duello in Rai, la sfogo di Vespa. Questa par condicio vale solo per me. Intervista a Stefano Savito. Ti è pronto a chiarire tutto, ma prolungano la sua agonia. L'avvocato del governatore e le dimissioni non sono all'ordine del giorno. E' ancora nel fondo pagina, se ha il decreto fiducia. Super bonus, nuove regole, cosa cambia. Dal tempo, uno sguardo alla prima pagina del fatto quotidiano. Il fuori legge, il titolo nel centro pagina. L'editto postumo, Vespa su Rai 1 attacca Biaggi, Gluttazzi, Santoro e Travaglio. Il fuori legge, l'uso criminoso della TV. Si ribella all'Agicom che boccia il duello Meloni-Schlein, mentre sui talk dal 2001 senza candidati ignora tutte le sentenze e viola la par condicio. Contro Santoro in lista. Nel taglio alto invece candidato a Sassari, alle amministrative, mafia, loggia e droga, indagato rettore Fratelli d'Italia e Forza Italia. Intervista a Davigo, solo negli stati canaglia. Illicito il caso Genova, poi ancora a San Gerardo di Monza. Moratti la fuga in Unione Europea da 14 milioni di debiti sanitari. Dal fatto quotidiano, uno sguardo alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, nessun accordo sul trattato pandemico globale. Mezzo mondo rifiuta il gioco OMS. Europa, Africa e America del Nord contestano, anche se per ragioni diverse, il testo che darebbe all'Agenzia dell'ONU il potere di imporre restrizioni e politiche sanitarie, vaccinazioni incluse. Poi ancora ha truccato il concorso, condannate il professor Galli, un anno e dieci mesi. Poi ancora nel taglio medio, che cosa ha detto davvero Spinele e IPM, show del presunto corruttore che nega gli debiti e rivela, ho pagato la campagna elettorale del Partito Democratico. Toti a Monte Carlo, lì con me si mangia gratis il trattamento VIP, i guai col porto, me li ha sbloccati a ponte. Dalla verità, uno sguardo al quotidiano economico del Sole 24 Ore, Dow Jones record oltre 40.000 punti. I rally delle borse, da Francoforte a Parigi fino a Londra, sono 18 listini azionari massimi storici. Anche i Nasdaq SP500 raggiungono nuovi primati, piazza affari al top dal 2008. Nuove sanzioni fiscali in vigore. Da settembre, decreto lunedì in Consiglio dei Ministri, le riforme. Partite even, arrivo ritocchi al concordato sul regime delle perdite, casellati, semplificazioni al via d'attività produttive, scuola, disabilità, ambiente. Le altre notizie, niente effetto PNRR su organi CPA, cresce la scuola, calano i comuni. Nel taglio laterale invece, leader russo a Pechino, Xi Jinping e Putin rafforzano l'asse strategico tra Cina e Russia. Poi ancora la guerra tra Israele e Hamas, Mattarella serve un cessato il fuoco immediato. Dal sole 24 ore, come sempre in chiusura, uno sguardo al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, il mercato degli allenatori nel centro pagina, con l'addio di Allegri ormai certo, la rabbia della Juventus dopo le scenate di Roma con Allegri. È definitivamente finita. Addio al veleno, lo sfogo con Giuntoli, Urla, Liti, si valuta l'esonero immediato per giusta causa. Pronto Montero. Il futuro adesso è quello di Tiago Motta. Poi ancora nel taglio laterale c'è l'Inter. Zhang, OH3, Pimco, alta tensione. Inter, scontro sul prestito. Il club rischia lo stallo. Poi nel fondo pagina, intreccio con il Marsiglia. Ora Fonseca va in pressing. Milan, Miuoi. Poi c'è anche un riferimento al Giro d'Italia, Giro Mondiale, Pobacara, attacco ancora. Poi alle 20 e 45 a Firenze, dei Laurentiis, Napoli, non c'è soltanto Conte, per la panchina a parte europea. Prima di chiudere, uno sguardo anche al nostro palinsesto. Ore 11, zona sport. Ore 13, 5, festa dei Banderesi Bucchiani. Con le 14, le nostre informazioni in diretta con il telegiornale. alle 16 e 15, zona sport, 18 e 30, camminando Molise, 19 e 30, la nostra informazione con il telegiornale. Alle 21, conto alla rovescia condotto da Pasquale e Damiale. Alle 23, l'ultima edizione del nostro telegiornale. Si conclude così la nostra rassine stampa. Vi ringrazio per averci scelto. Tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Dietro Bisant